Dunque, sesto posto finale, 55 punti, 10 in meno rispetto agli ultimi due campionati di Serie C. Nel 2021-22 il Pescara si classificò al quinto posto lo scorso anno con Zeman, subentrato a Colombo, in terza posizione, col vantaggio non indifferente di saltare i primi due turni preliminari play-off. Nella comunicazione il club ha commesso l'errore di ritenere l'attuale organico più forte di quello dello scorso anno, arrivato ad un centimetro dalla finalissima play-off. Il brillante inizio, 16 punti in 6 gare, ha illuso più o meno tutti. In realtà nel mercato estivo la Rosa non era stata assemblata bene, soprattutto a centrocampo. Sull'attacco tutto sin troppo chiaro da prima che partisse la stagione. Di fatto ceduto Facundo Lescano, che non è stato rimpiazzato adeguatamente il Pescara, non ha mai giocato con una prima punta di ruolo. Alla fine cammino deludente sì, perché le aspettative erano altre dopo la finalissima play-off sfiorata di un niente, ma se consideriamo il valore intrinseco dell'organico allestito, appunto non da primi posti, la classifica finale non può meravigliare. Numeri inoppugnabili, 32 punti nella prima parte, appena 23 nel girone di ritorno. Complessivamente 16 vittorie, 8 in trasferta, 7 pareggi e ben 15 sconfitte, di cui 6, un'enormità all'Adriatico. 60 ai gol fatti, 17 da Merola, quinta squadra più prolifica dell'intera Serie C. Dietro Triestina 61, Avellino 62, Mantua 72, Cesena 80, ma anche 55 reti incassate, di cui 34 nel girone di ritorno. Ora i play-off, che cominceranno ufficialmente martedì 7 maggio. Il Pescara ospiterà in gara secca il Ponte d'Era, col vantaggio di due risultati su tre al novantesimo. Toscani in flessione, una sola vittoria e tre sconfitte nelle ultime se partite. In caso di qualificazione, probabilmente il Gubbio in trasferta, con un solo risultato a disposizione, la vittoria al novantesimo. Ma se nel primo turno l'11 di Piero Braglia uscisse sconfitto in casa dal Rimini, il Pescara giocherebbe di nuovo all'Adriatico contro la vincente della sfida. Juve Under 23, Arezzo.